Ciao, sono Andy, Visual Brand Manager di Olympic Hair Salon. Se sei un parrucchiere, capire come farsi pubblicità gratis può essere una risorsa preziosa per promuovere il tuo business senza dover investire grandi budget in campagne pubblicitarie. Pubblica contenuti interessanti e coinvolgenti sui social, utilizza hashtag pertinenti e interagisci con la tua community. Puoi anche sfruttare funzionalità come i gruppi di Facebook per raggiungere un pubblico più specifico e promuovere il tuo business. Crea un blog aziendale e pubblicare articoli informativi e utili, oppure produrre video tutorial o podcast. Concentrati sul fornire informazioni che siano pertinenti per il tuo settore e che risolvano i problemi dei tuoi potenziali clienti. Cerca influencer nel tuo settore e valuta la possibilità di collaborare con loro per promuovere il tuo business. Partecipa ad eventi locali.